Sindaco Truzzo a pochi giorni dalla fine della campagna elettorale almeno ci dice che è antifascista, che ripuglia il fascismo, oppure quella scritta Trux, scritta col pennarello è ancora in realtà indelebile. Niente, non ce lo vuole dire che è antifascista come ha detto la Dodd, proprio non riesce. Mariana Aprile, che lezioni sono queste? Tanto? Grazie.